Oggi siamo qui a Legnano, è la giornata del FAI. Oggi saranno aperti alcuni degli edifici più importanti della storia industriale legnanese. E siamo qui con una responsabile del FAI, la signora... Sì, sono Maria Antonietta Protasoni e sono la capodelegazione del FAI del Seprio, che comprende la zona che va da Angera fino a Legnano. E quest'anno abbiamo scelto Legnano per la nostra giornata di primavera. Siamo qui davanti alla manifattura di Legnano, uno degli edifici storici e più importanti della storia industriale. Oggi saranno differenti gli edifici che saranno aperti per dare l'opportunità di essere visitati. Ci fa un breve elenco e ci spiega un attimino quali sono le visite e quali saranno le opportunità per le persone? Sì, certo. Allora, tutta la giornata è dedicata a un percorso di archeologia industriale, in quanto noi apriamo... Allora, questa che è una fabbrica, la manifattura di Legnano, che è l'unica che ancora oggi è integra. La fabbrica comprende la fabbrica, gli uffici, l'asilo nido, il convitto, insomma, è ancora uno degli esempi... Infatti si chiama dell'acqua Bombelli. La villa Juker, che era la villa di un dirigente di un'altra manifattura. E poi il villaggio Cantoni, perché è la rappresentazione delle case degli operai, dei dirigenti e degli impiegati, anche se non di questa manifattura, erano della Cantoni, insomma. Però è sempre un percorso di archeologia industriale. E poi, da ultimo, abbiamo inserito anche Palazzo Malinverni, perché Palazzo Malinverni è comunque dello stesso periodo, viene anche lui iniziato intorno al 1903 e quindi appartiene, insomma, Qua c'è la Legnano industriale, industriosa, e là c'è la parte sociale, la parte legata al comune, al municipio, alle istituzioni, insomma. Un ultimo ringraziamento agli sponsor, che comunque sono fondamentali per il sostegno di queste belle iniziative del FAI. Sì, allora, io devo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione di questa giornata FAI, e quindi a partire dal sindaco, dall'amministrazione, da tutti quelli che terranno le visite guidate, gli esperti, i proprietari delle case, che gentilmente, o i proprietari della manifattura, tutti i delegati, perché è un anno che ci stiamo lavorando, e poi in particolare Confindustria Alto Milanese, che è un nostro sponsor, e Reale Mutua della zona di Legnano, che è un altro sponsor per questa giornata. Grazie mille anche a lui. Bene, ora siamo qui con Lucia, studentessa del Liceo Galileo Galilei di Legnano. Lucia, voi state seguendo un progetto molto particolare in ambito FAI. Ci spieghi come si chiama e di cosa si tratta? Allora, noi stiamo seguendo il progetto Ciceroni, che coinvolge gli studenti delle scuole di Legnano. Io sono del Liceo Galilei e insieme ad altri miei compagni e ad altri ragazzi delle scuole di Legnano e che il FAI riesce a rendere proprio accessibili al pubblico esterno. È una cosa, secondo me, molto coinvolgente, che proprio anche riesce a rendere gli studenti e ragazzi della mia età più partecipi a questo tipo di cose e anche ci fa rendere più consapevoli della storia della città dove viviamo. Io scelto di partecipare perché ero interessata molto alla storia della città dove io vado a scuola, dove passo molto del mio tempo e proprio vedere anche queste ville, la fabbrica appunto della manifattura e poterci entrare per sapere che cosa c'era in quel periodo, cosa si faceva secondo me è stata veramente un'esperienza che si dovrebbe fare. Perfetto, sei stata chiarissima, tu sei qui a fare quindi un po' la guida, ti lasciamo al tuo lavoro e in bocca al lupo anche per la scuola e tutto.